Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Grave incidente a Pesaro fra un'auto e una moto, 24 anni in prognosi riservata Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone di un hotel a Pesaro immobilizzato con un sonnifero Aset Holding verrà incorporata in Aset SPA, l'annuncio in conferenza stampa del sindaco di Fanno Massimo Seri Domenica 10 luglio si festeggia il patrono San Paterniano Da stasera a domenica Tre Ponti si anima con la festa della Crescia Matta Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca Un centauro pesarese di 24 anni è rimasto gravemente ferito In un incidente stradale avvenuto fra Via Fratti e Via Madonna di Loreto nel comune di Pesaro Lo scontro è accaduto questa mattina intorno alle 12 quando una Fiat Panda con a bordo due anziani Si è scontrata con la moto guidata dal giovane Nella collisione la Panda ha finito la sua corsa contro un cartello stradale Mentre il ragazzo è stato sbalzato violentemente a 10 metri di distanza riportando gravi traumi Il 24enne si trova in prognosi riservata all'ospedale San Salvatore Mentre sono rimasti feriti in modo lieve i due anziani a bordo dell'auto Alla dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Pesaro Un commerciante di immobili di origine libica ha minacciato di gettarsi da un balcone Dell'hotel Cruiser in Viale Trieste a Pesaro L'uomo di 53 anni si è rinchiuso in una stanza del quarto piano E' uscito in terrazza e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto In vendo anche contro alcuni parenti che in questo periodo si trovano in città La direzione dell'albergo ha chiamato i vigili del fuoco Che hanno posto una protezione sotto il balcone I carabinieri e il 118 Dopo un'ora di trattative il libico ha accettato di aprire la porta ai militari A quel punto è stato immobilizzato e trasportato in ospedale nel reparto di psichiatria I motivi del gesto sarebbero quelli della crisi libica Degli affari che vanno male E sembra anche le scelte strategiche dell'Italia Nei confronti del suo paese ritenute dall'uomo sbagliate Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa Santa Croce di Calcinelli a Saltara I funerali di Gianni Ambrosini L'uomo deceduto all'età di 44 anni lunedì scorso Dopo essere precipitato da una gru a pochi metri dalla basilica di San Paterniano a Fano Alle 9 la salme è partita dall'ospedale Santa Croce per giungere a Calcinelli Dove Ambrosini era cresciuto prima di trasferirsi a Ponte degli Alberi di Monte Felcino Sono stati tanti oggi i parenti, i colleghi e gli amici di sempre Che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Ambrosini L'uomo che lascia la moglie e due figli è stato tumulato nel cimitero di Saltara Accanto alla salma del padre deceduto qualche mese fa Cambiamo argomento Aset Holding verrà incorporata da Aset S.P.A. L'ha annunciato il sindaco di Fano Massimo Seri Questa mattina durante la consueta conferenza stampa del venerdì La strada che porta alla fusione delle due Aset è delineata Averrà per incorporazione della Aset Holding nell'Aset S.P.A. E dentro il mese, presumibilmente nel consiglio comunale del 28 luglio prossimo Verrà presentata una delibera di indirizzo Il sindaco di Fano Massimo Seri, come un comandante di Vascello Sembra aver messo le manette dei motori avanti tutta E la barra del timone dritta è ben salda tra le mani Come lui stesso ha affermato questa mattina durante il consueto incontro con la stampa E saranno le carte a parlare Come le carte hanno parlato in questi giorni In cui il comune, la proprietà, quindi Ha dovuto ricorrere ai cartellini rossi per rimettere le cose a posto E ricondurre tutto alla normale dialettica politica Le scarrociate impreviste non piacciono al primo cittadino che tuona Sono stato chiarissimo nella lettera e mi aspetto che la holding recepisca tutto ciò che c'è scritto Diversamente verranno presi i provvedimenti del caso Traduzione, se la holding non ritira la diffida ai consiglieri comunali del vecchio Gabatini e Santorelli Allora interverrò personalmente Ora, che il sindaco sulla fusione Aset goda del consenso favorevole dei comuni interessati Era cosa nota Cosa meno nota e scontata è il fatto che ora anche il Partito Democratico sembri sposare questa linea La barra è ferma, andiamo verso la fusione Ovviamente quando ci sono le situazioni complesse, politicamente accese È chiaro che le cose non sono mai semplici Adesso siamo nella trattura d'arrivo, le posizioni sono chiare, abbiamo le idee chiare E poiché parliamo di un'azienda che ha anche dei soci Cioè dei altri comuni, anche se sono soci con quote minori Ma è mio costume cercare sempre la condivisione Perché se le cose riusciamo a farle condividere Sono più lineari e arrivano all'obiettivo Quindi posso dire tranquillamente Che entro il mese di luglio Porteremo in Consiglio Comunale la delibera di indirizzo AZSPA aderisce allo sciopero nazionale proclamato per le giornate di lunedì 11 e martedì 12 luglio I cittadini sono comunque invitati a depositare fuori casa i propri rifiuti Anche se l'azienda non riesce a garantire la presenza di tutti gli operatori Quindi in caso di mancato servizio gli utenti dovranno ritirare i sacchi o i bidoni Ed esporli alla raccolta successiva prevista dal calendario Il referendum sulla sanità rischia di slittare al prossimo anno Lo denunciano le forze politiche che nei mesi scorsi hanno raccolto Circa 4.000 firme che ora chiedono l'intervento del prefetto Sentiamo il perché nell'intervista che abbiamo realizzato all'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi Siamo preoccupati perché l'attuale regolamento comunale Prevede la possibilità di effettuare referendum propositivi in questa città Dal 10 di aprile al 15 di settembre Noi abbiamo fatto una proposta per poter spostare questa data E unirla a quella del referendum istituzionale che si terrà in autunno Questa proposta non è passata in consiglio comunale Il PD ha votato contro In quell'occasione il sindaco Seri si è rimpegnato a portare lui una proposta Per poter fare in modo che questo referendum si potesse tenere E che si potesse tenere insieme ad un'altra elezione In modo da risparmiare anche soldi dei cittadini Siccome i tempi si avvicinano Il 13 c'è un consiglio comunale Noi non vediamo traccia invece di questa proposta Che il sindaco si è rimpegnato a portare E ormai temiamo che non ci siano più i tempi Siamo fortemente a denunciare questa situazione Cioè 4.000 firme raccolte in pochissimi giorni Di 4.000 persone di questa città Verranno ignorate probabilmente da questa amministrazione E non si svolgerà probabilmente nessun referendum Già i tempi sono strettissimi Mentre il 15 settembre sarà difficilissimo poterlo realizzare Quindi siamo qui a denunciare questa situazione Io oltretutto come consigliere comunale Mi permetto anche di dire che C'è un clima ormai sinceramente molto pesante in questa città Perché 4.000 cittadini che vogliono esprimersi Vengono ignorati Dei consiglieri comunali che cercano di fare il loro lavoro Vengono diffidati tramite gli avvocati Da amministratori pubblici di questa città Nominati dal sindaco Ecco sinceramente siamo un po' preoccupati Tant'è che oggi stesso partirà questa lettera Al prefetto di Piero Rubino E gli chiederà di vigilare con attenzione Su queste tematiche in questa città Per garantire la democrazia E la partecipazione di tutti i cittadini E dei consiglieri comunali Fratelli d'Italia invece interviene nuovamente Sul tema della sicurezza E chiede sia al Comune Che ai consiglieri regionali del Partito Democratico Di attivarsi per combattere la criminalità Bisogna fare qualcosa Noi abbiamo dei deputati Dei rappresentanti del PD Eletti nel nostro territorio Però vorremmo vedere da questi deputati Concretezza su temi molto importanti E molto sentiti dai cittadini La stessa cosa all'amministrazione C'è un silenzio immane su questa cosa Noi abbiamo proposto la riorganizzazione E l'utilizzo della Polizia Municipale Che possono dare con servizi diversi Un grande respiro alle forze dell'ordine Invece la Polizia Municipale purtroppo Notiamo che viene utilizzata per far budget Quindi come cassa, bancomat E penalizzando fortemente i cittadini Quando invece potremmo avere una visione Molto più a largo raggio Avete chiesto informazioni però Anche per quanto riguarda le telecamere Di video sorveglianza Sì, la domanda sorge spontanea Si è parlato di queste telecamere Otto se non sbaglio all'inizio È stato fatto un bando Per la ditta a cui è stato assegnato l'appalto Credo di Rimini ho letto Ma da allora ad oggi Noi non abbiamo avuto più risposte Che tra l'altro sono abbastanza importanti È un occhio in più E andiamo avanti ancora con la cronaca Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio Nel tetto di una palazzina In via Fratelli Bandiera In zona San Cristofono a Fano A prendere a fuoco Sono stati dei cartoni contenenti Tessuto plastico di isolamento Quelli che vengono utilizzati Anche per gli impianti di riscaldamento a terra Le fiamme sono state innescate Dalla carta catramata Utilizzata dagli operai di una ditta Che stavano eseguendo alcuni lavori Sul tetto dell'edificio Quando sono intervenuti Vigili del fuoco Il rogo era già stato spento dagli operai Dopo un lungo periodo di sperimentazione Della nuova viabilità Bellocchi di Fano Lunedì alle ore 20.45 L'amministrazione comunale Incontrerà i residenti e i commercianti Del quartiere al Circo Lanziani Di via Seconda Strada Invece nel centro commerciale Sant'Orso a Fano Sono cominciati i lavori Per realizzare un polo unico Dei servizi sociali Gli uffici saranno pronti Entro la fine dell'anno Tutti gli uffici legati ai servizi sociali Compresi quelli dell'ambito Ora dislocati in varie sedi Presto albergeranno sotto un unico tetto Saranno i locali di proprietà comunale Ubicati nel centro commerciale di Sant'Orso Che subiranno una ristrutturazione Dal costo di 120.000 euro Che permetterà a tutto il personale Una quarantina di persone Di operare in un unico ambiente Con locali protetti Senza barriere architettoniche E dedicati alle varie singole esigenze Ottimizzando così l'offerta Dei servizi sociali Tutto questo in tempi brevi Visto che anche questa operazione Rientra nei progetti 2016 E quindi entro l'anno Dovrà essere ultimata e completata Dunque l'investimento prevede Di recuperare quegli spazi del centro commerciale Di dividerli in maniera razionale E migliore attraverso opere di cartongesso Con un'impiantistica completamente nuova Per rendere appunto gradevole Anche il lavoro dei nostri dipendenti Siamo molto misti sulle date Perché i lavori non sono grossissimi Anche se impegnativi Però pensiamo di poter finire a ottobre-novembre Per cui questo sicuramente È un risultato molto buono In più abbiamo previsto E questa è un'attività molto importante Quello di prevedere un collegamento In fibrotica tra gli uffici nuovi Che andremo a ristabilire Appunto presso il centro commerciale di Sant'Orso Con il comune di Fanno Un collegamento in fibrotica Che è molto impegnativo Perché la distanza è di circa 3-4 km Ma che prevede il passaggio Attraverso la linea dell'illuminazione pubblica Che comunque questo comune ha a disposizione E in occasione del stesso compleanno Della Mediateca Montanari di Fanno L'assessorato alla mobilità Ha regalato alla Memo Alcuni stalli per le biciclette Parcheggio bici in città Vicino alla Memo In sicurezza Sono novità su questo fronte Sì sicuramente abbiamo in mente Di predisporre un piano Per la sosta delle biciclette in centro storico E abbiamo voluto anticipare Visto che tra qualche giorno La Memo festeggerà 6 anni di attività Abbiamo voluto festeggiare Regalando tra virgolette ai ciclisti Pedoni ai ciclisti che sfruttano Appunto la bicicletta Per arrivare alla Memo Un piccolo spazio in più Per poter parcheggiare Un posto comodo e sicuro Dove appunto lasciare le biciclette È diciamo un anticipo Di quello che vorremmo fare In tutta la città L'abbiamo voluto fare Perché appunto la Memo Compie 6 anni Ma che comunque vorremmo farlo Discutendone con il tavolo della mobilità All'interno di questa città E credo che possa essere importante Perché noi riteniamo Che l'uso della bicicletta Soprattutto in centro storico Sia molto utile Agevoli la mobilità Diciamo eviti l'uso della macchina Poi ci sono delle regole Le regole ci sono sempre state Per la convivenza tra ciclisti e pedoni Noi invitiamo sempre a usare il buon senso A usare il cervello Che non costa molto E quindi noi vi invitiamo veramente A venire in città in bicicletta Usando le precauzioni Mettendovi in sicurezza Mettendo in sicurezza anche i pedoni Ma sicuramente vi invitiamo Invitiamo tutti a usare il buon senso Perché le regole ci sono Ma il buon senso è una cosa Che noi italiani abbiamo in dote E sfruttiamola bene Ecco il buon senso dice Parcheggiamo e lasciamo le biciclette Anche negli adeguati spazi Che voi state per disporre Certamente non lasciamo le biciclette Davanti alle vetrine Non lasciamo le biciclette Se possibile Davanti ai monumenti In maniera tale Che possano gustare La bellezza dei monumenti Sia i cittadini Che i turisti Cerchiamo di farlo Con un certo criterio E noi Presidisponeremo questo piano Appunto perché si possa fare Possa essere vicino Ai posti dove vogliamo Che la gente vada Certamente Ma possa essere Appunto Comodo Anche E non infastidisca La vita degli altri E l'attività in centro E domenica 10 luglio A Fano si festeggia Il patrono San Paterniano Nella basilica Lui dedicata Che fra l'altro È anche una delle chiese giubilare Per l'anno santo della misericordia Domani Sabato 9 luglio Il vescovo Trasarti Celebrerà una santa messa Alle ore 18.30 E la basilica Rimarrà aperta Fino alle ore 23 Per la visita E la preghiera Al patrono Nel chiostro invece Alle 21.15 Si terrà Un concerto Del complesso bandistico Città di Fano Diretto dal maestro Daniele Rossi Nella giornata di domenica Invece Alle 10.30 Si terrà Una solenne messa Pontificale Preseduta dall'arcivescovo Metropolita di Perugia Gualtiero Bassetti Mentre alle 21.15 Sarà ufficiata Dal vescovo Trasarti A seguire Il concerto itinerante Dell'orchestra Di fiati Fano un fortuna E diretta dal maestro Sauro Nicoletti Dalla basilica Di San Paterniano A piazza 20 Settembre Vi ricordiamo inoltre Che tutte le domeniche Di mesi di luglio E agosto Nella basilica Di San Paterniano Verrà celebrata Una santa messa Alle ore 21.30 Torniamo appunto A parlare di questa Festa del Patrono Perché domenica sera Alle 22.30 Torna la tradizionale Estrazione della tumbola Di San Paterniano La figura di San Paterniano Insomma per i fanesi Per chi ha studiato Un po' la tradizione È una figura sacra Probabilmente la prima Figura di vivescovo In questa città In anni difficilissimi Le persecuzioni di Ocleziano Poi l'editto di Costantino Di Milano Insomma che dir si voglia Che ha liberalizzato il culto Ma ha significato anche Da quello che si legge Dalle scarse notizie La figura di un santo eremita Che si è prestato Perché i cittadini Lo reclamavano A governare questa comunità Per un quarantennio Figura molto amata Non solo nella nostra terra E quindi è una festa Una festa sacra Una festa popolare È un divertimento Perché la piazza Se ne merà di notte Colori E poi con questa estrazione Che si collega anche un po' Alla fortuna Tuttavia c'è un altro scopo Benefico Che è la carità La solidarietà Quindi i proventi Di questo monte premi Che è importante Perché si aggira sui 2000 euro Il monte premi I proventi vanno Per opere di bene A disposizione del Vescovo E a disposizione Dei frati di San Paterniano Un atteso appuntamento A tutti gli anni È diventato una tradizione Imprescindibile dell'estate Sì Noi abbiamo già Diciamo i ragazzi Che stanno Stanno vendendo i biglietti Con questa maglietta gialla E diciamo tutti Ci sono autorizzati A vendere i biglietti Già in giro Poi domenica Sarà il clou Della tombola Ecco ci sarà la vendita Fino all'ultimo momento Quindi insomma Chi non magari ne è provvisto Può farlo anche la sera stessa Sì 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 No La sera stessa Poi diciamo Aumentiamo anche i ragazzi Quindi Ce ne saranno parecchi in giro Allora La presenza In una piazza così bella Della città La Carifano Si affaccia proprio Sul teatro Dell'avvenimento E quindi Non può non essere Assolutamente sì Perché Lo sponsor Era duopo Come fossimo noi Tra le altre cose Visto che siamo Il retropaico In qualche maniera Di questa manifestazione Ma al di là delle battute Ci fa estremamente piacere Continuare In questo sulco Ormai tracciato Da diversi anni Di collaborazione Per questa festa Importante Per Fano Importante Per come diceva Vice sindaco Prima Anche per gli scopi Benefici Di questa cosa Che viene In aiuto Alle varie attività Che svolge Comunque la comunità Di San Paterniano Che in questo momento Storico sicuramente È molto molto importante E non Secondo Perché siamo Comunque Sia Carifano Il gruppo di credito Altenese Sendo ormai Una banca Ultracentenaria Voglio dire Perché non legarsi Alla manifestazione Più centenaria Di Fano In qualche maniera E lunedì sera La compagnia Dialettale Gas Porterà in scena La BCC Arena di Fano La comedia Intitolata Un scherzo da prete Uno scherzo da prete Dopo il grande successo Della rassegna Cianfrusaglia Riproponete Lunedì La vostra commedia Che ha avuto Grande successo Sì allora Lunedì 11 Qui alla Arena BCC Di Tre Ponti Il GAF Ripropone Un scherzo da prete Che è la comedia Che abbiamo proposto Quest'anno Nell'ambito Della rassegna Cianfrusaglia E che effettivamente Sì ha avuto Un grande successo Di pubblico Perché abbiamo fatto Cinque repliche Cinque serate Tutte piene E per noi è stata Una grossa soddisfazione Quindi Chi non l'ha vista Oppure chi la vuole Rivedere Insomma Si vuole divertire Come quest'inverno Noi siamo Lunedì Qui all'Arena BCC Di Tre Ponti E alla cooperativa Tre Ponti Di Fano Questa sera Ha preso il via La 32esima festa Della Crescia Matta Ma allora Colleghiamoci Con la cooperativa Dove c'è per noi Lino Balestra Ecco che vedo Già raggiunto Le cucine Buonasera Lino Come sta procedendo Sì Sì Buonasera Simona Buonasera A te Buonasera A tutti I telespettatori Siamo collegati Da Tre Ponti Siamo praticamente Dentro la cucina Perché stasera La prima grande serata Di questa Tre giorni Di Crescia Matta Ma poi Non sono soltanto Tre giorni Dopo sentiremo Anche da Gino Bartolucci Come si dipanerà Tutta la settimana Possiamo dire Di Crescia Matta Però insomma A partire da oggi Ci sarà L'evento Clou Qui siamo proprio Dove le cresce Vengono preparate Adesso Se Fabio Turiani Inquadra I due panieri Vedete Sono già qui pronte A disposizione Di tutti quelli Che vorranno Venire qui Stasera Noi lasciamo Lavorare Allacremente La cucina Adesso ci portiamo In esterna Perché vi vogliamo Far conoscere Anche i protagonisti Dal punto di vista Musicale Di questa giornata E anche il Patron Di tutta La Di tutta Tre Ponti Gino Bartolucci Eccolo qui Allora Diamo le spalle Un attimo Alla telecamera Portiamoci fuori Gino vieni Perché Siamo in In collegamento Col telegiornale E tu sai Benissimo Che questo è un momento Particolare Per Tre Ponti E un momento Particolare per te Insomma Tanti anni Oltre 30 Di questa Crescia Che piace tantissimo E insomma Quindi noi siamo Voi siete tutti qui Che aspettate La gente che venga Per questa serata Siamo in attesa La prima serata Di solito il debutto Sempre con la diretta Di fare un tv Che ci si fanno Che poi ci porta Tanta gente Perché poi Chi sta a vedere a casa Pensa Oh stasera ho fatto tardi Ma non può mancare domani No no Assolutamente Assolutamente Allora come sempre Gino Ho detto Non è soltanto Questa tre giorni Ma ci sono anche Dei giorni Nella prossima settimana Che saranno giorni importanti Sì oramai Oramai la Tre Ponti Si è suddiviso All'arena No E che la crescia matta Di qua Che è di qua Perché la crescia matta Qualcuno dice Perché non lo facciamo L'arena Perché è nata qua È 32 anni che è qua Perciò naturalmente Il problema dove È importante Tenerla sempre viva Qua naturalmente Anche perché L'abita dove è nato E perciò Oramai ricordi Perché i ricordi Sono passati 32 anni Perciò È una situazione Perciò È una cosa importante Importante Senti Questa sera voi Iniziate sempre Con una grande orchestra Un'orchestra che ormai È nel cuore di tutti È abbonata Mi sa che è abbonata Gli andiamo a scocciare un attimo Andiamo a scocciare Perché Già stanno mangiando Già stanno mangiando Perché qui il tempo Poi dopo loro devono partire Il tempo stringe Alle 9 Alle 9 sai Devono salire sul palco Perciò Pronti via 1, 2, 3 Allora Allora Adesso Noi ci avviciniamo Con un po' di circospezione Perché insomma È un momento anche Per gli artisti particolari Di concentrazione E naturalmente Piombiamo Nella loro tavola Noi piombiamo Insomma nelle vostre case Col telegiornale Sono qui Come sempre In formazione Insomma Moreno Moreno E tutti Sono naturalmente Allora Cerchiamo Di fare due battute Veloci Per non disturbarli Troppo Stanno aspettando Da mangiare Cino Ci tieni sempre Ad avere loro Qui come Mi sembra Moreno Che sono 6 7 Non ci ricordiamo più No 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 Non è rinato Perciò Non potevo Va bene Allora Fra un poco Andate sul palco Regalate Grande emozioni Come sempre Ma Anche voi Mi sembra che Vi emozionate Venire qui a Tre Ponte Ma è come Essere invitati Alla Tavola Di una famiglia Che fa parte Della tua famiglia Quindi siamo legati Dal rispetto Proprio tra le persone In maniera importante Poi c'è anche Come dire Un piacere Di avere la nostra musica Condivisa Qui con loro Quindi Chi sono voi Lo invito a Gatteo Mare Ma lui non viene mai Non viene Quest'anno vengo Sai che lassù Ci diamo anche Con la nostra tradizione Il bello di queste cose Che sono proprio Gli incontri Delle culture La cucina La crescia La matta La piadina La musica Lo stile del ballo Pesarese Noi veniamo col pulmone Vengono col pulmone Ti faccio parcheggiare In piazza In piazza Gatteo Allora Va bene Vi lasciamo Pranzare In santa pace In bocca al lupo Per dopo Allora Gino Un saluto Lo facciamo Insomma Prima di restituire Siamo appuntamente Tutti gli amici A tutti i telespettatori Di Fano TV Naturalmente Stasera abbiamo Il grande Però Non da meno Domani Dopodomani Naturalmente Con domani Ioselito Domenica La grande orchestra La nostra Mario Riccardi Poi La prossima settimana Come hai detto prima Lunedì Il gaffa All'arena BCC Giovedì DJ Berta E venerdì La nostra chicca Le nostre barzellette Con gli amici Del San Costanzo Che già La dicono tutto Perché bastano loro A fare la loro comicità Biccio Che viene da Sant'Angelo Che vinse Oramai passati gli anni La sai l'ultima La sai l'ultima E tanti barzellettieri Quest'anno Abbiamo fatto Un bel cambio Di generazione Perché abbiamo puntato Su dei nuovi elementi Perciò a un certo punto Ci sarà un rinnovamento Un rinnovamento Perché giustamente Ci dicevano Cambiamo qualcosa Perché sempre Perché poi le barzellette Voi mi insegnate Sono sempre quelle Però Le facce Vanno cambiate Perciò quest'anno Cambiamo le facce Quello che non cambia È il buon umore È il buon cibo È la buona musica È la crescia matta Quindi da Tre Ponti è tutto Restituisco la linea Allo studio A te Simona Grazie Grazie Lino Balestra A tutta la cooperativa E volontari Appunto gli a Tre Ponti Prima di salutarci Vi ricordo che questa sera Subito dopo il nostro telegiornale Trasmetteremo Lo speciale televisivo Dedicato alla Notte Rosa Per il telegiornale è tutto Grazie per averci seguito Arrivederci Buon proseguimento di serata Grazie a tutti